Torna ai nostri microfoni l'ex dirigente dell'ASP di Cosenza, Tulio Laino, oggetto dell'intervista alla sentenza del Consiglio di Stato del 3 marzo scorso, la terza per l'esattezza che sancisce l'illegittima riconversione del presidio ospedaliero di Praia Mare in Capt. Insomma, la struttura deve tornare com'era e dovrebbe pensarci Andrea Urbani, subcommissario alla Sanità Calabrese e nonché direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero. Ed è proprio su questo aspetto che Laino ha da ridire. Sinceramente mi sembra molto farlocco che sia stato nominato, a prescindere dal nominativo di Urbani, nel frattempo nominato dalla Lorenzin, direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute, è lente e la struttura che è incompatibile con il piano di rientro. Tant'è che proprio strutturalmente e organizzativamente la direzione generale della programmazione sanitaria è organo controllore della struttura commissariale. Quindi, a prescindere dal nominativo di Urbani o di suo delegato, è la struttura che è incompatibile con l'esecuzione della sentenza di ottemperanza o la sentenza di elusione da parte del Consiglio di Stato. Perché Urbani va bene, può nominare un suo delegato. Ma è la struttura che strutturalmente, funzionalmente e giuridicamente è incompatibile con l'applicazione del deliberato del Consiglio di Stato, in quanto organo controllore e affiancante della struttura commissariale insieme al MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ma c'è anche un altro elemento che deve essere tenuto in considerazione e che l'Aino sottolinea, marcatamente. Urbani svolge le sue mansioni come subcommissario in regime di libera professione, non è un dipendente della struttura commissariale, ben inteso. E si è scoperto che il dottore Urbani è anche revisore contabile di Agenas, agenzia per di servizi sanitari e regionale, che è un organo affiancante della struttura commissariale. Quindi sussiste nella fattispecie una triplice, se non una quadruplice, incompatibilità sia funzionale che giuridica. Alla fine, quello che vorremmo capire, come si può uscire da questa impasse? Il problema non è tanto rilevabile sul piano tecnico e giuridico, il problema è rilevabile e diventa sostanziale sul piano politico. Perché deve essere la Presidenza del Consiglio, deve essere il Ministero della Salute, deve essere il Ministero dell'Economia e delle Finanze che devono trovare le risorse per ripristinare Praia Mare nella rete ospedaliera per la Cota. C'è anche un altro bonus a questo punto. Con i decreti di riorganizzazione della rete ospedaliera, parlo del Decreto 18 del 2010, del Decreto 9 del 2015, del Decreto 30 del 2016 e del Decreto 64 del 2016, il Commissario ad Acta ha esercitato illegittimamente e surrettiziamente i poteri legislativi. Ora, è ben noto che in base all'articolo 120,2 della Costituzione, attuato dall'articolo 8,1 della legge La Loggia, dalla legge 131-2003, in capo al Commissario ad Acta non possono essere conferiti poteri di rimozione legislativa. Nel senso che il Commissario ad Acta può esercitare nell'ambito delle regole di ingaggio conferite dal Governo, soltanto atti di natura organizzativa, gestionale e regolamentare. Non può esercitare poteri di natura legislativa, la cui competenza, a essenza dell'articolo 121 della Costituzione, è demandata solo ed esclusivamente al Consiglio regionale. il Commissario ad Acta, se rileva delle norme in contrasto con gli obiettivi del piano di rientra, li trasmette, a essenza dell'articolo 2,80 della legge 191-2009, al Consiglio regionale che ha 60 giorni di tempo per modificarle, rimuoverle e abrogarle. Invece il Commissario Scura, nell'adottare i decreti di riorganizzazione della rete ospedaliere e dell'emergenza e urgenza, ha violato palesemente queste norme, ha violato l'articolo 121 della Costituzione, competendo la riorganizzazione della rete ospedaliere solo ed esclusivamente al Consiglio regionale. Per effetto che cosa abbiamo paradossalmente in Calabria? Che hanno un profilo di illegittimità tutti questi decreti di riorganizzazione della rete ospedaliere e restano validi ed impregiudicati tutti i provvedimenti di organizzazione della rete ospedaliere sangite con la legge regionale numero 11 del 2004 che è il piano sanitario regionale 2004-2006. Questo non lo hanno capito né Scura, né Urbani, né la Lorenzin, né Renzi a suo tempo, né Gentiloni, né Padoan. Quindi per concludere, la politica deve assumersi delle responsabilità forti e deve essere davvero decisa. Deve far rispettare la legge. Se è vero come è vero che la politica dice costantemente che le sentenze non vanno commentate ma rispettate, qui nella fattispecie ci troviamo ad un vulnus, a una contraddizione, nel senso che tre sentenze emesse dal supremo organo di giustizia amministrativa che è il Consiglio di Stato non sono state a tutt'oggi eseguite e ottemperate.